ciao ragazzi quest'oggi mi è arrivato questo pacchetto che ora apriremo insieme sto filmando questo video in 4k 60 frame per secondo vediamo un po se youtube me l'accetta volete vedere è arrivato questa mattina un pacco abbastanza grande il contenuto al suo interno poi come potete vedere dal titolo si tratta di un box abbastanza raro più che per la rarità in sé è per la lingua perché in questa lingua in lingua italiana sono dei box difficili da trovare eccolo qui si tratta di un booster box piegato piatto per poter essere anche spedito al meglio come potete vedere ora andando a riunire queste linguette io posso andare a ricomporre il box come originariamente dicevo che ultimamente questi box vuoti potete trovare anche su ebay con la voce empty empty boxes cominciano ad avere il loro mercato in quanto dato che i box pieni e sigillati sono arrivati ormai a dei livelli stellari basta pensare che un box neo genesis in inglese non si porta a casa per meno di almeno 2 3 mila euro allora piuttosto che non avere nessun box meglio averli vuoti anche perché una volta vuoti si possono fare delle cose carine vendono delle dei case di plastica particolari col quale possiamo un attimo renderli più presentabili i box italiani i neo sono veramente difficili da trovare ho avuto la fortuna qualche mese fa di trovare un altro box in italiano neo genesis come potete vedere questo ha la linguetta un po abbassata provvederò questa cosa con mettendogli dentro del polistirolo probabilmente però vedete che con una leggera plastichina gli da anche una certa lucentezza e adesso si sta un attimo sfilando e un altro tipo di presentazione diciamo poi io l'ho riempito di di booster random per dargli anche un certo peso ma questo è un altro discorso per qui niente questo box adesso che è arrivato non ha bisogno di grandi restauri a dir la verità semplicemente andrò a riempirlo con un'anima di polistirolo innanzitutto vediamolo un attimo allora una particolarità che potete vedere dei box neo italiani è il fatto che sono stati prodotti in UK come altri set neo italiani basta pensare a neo discovery piuttosto che neo revelation tutto quello che si trova è made in UK infatti anche la sigillatura almeno dei box italiani che esistono sigillati hanno il simbolo della wizard con il ricciolino piuttosto che con il logo piatto come i box americani per qui niente questo è come si presenta poi vedremo in 4k se si vede bene oppure no niente questi sono i codici e questo è il box in sé poi magari in futuri video vi vi farò vedere se sono riuscito più o meno a sistemarlo con come qui ci sono i codici